Ciao a tutti ragazzi, sono Mattex e vi do benvenuto in questo nuovo episodio della nostra carriera natale con la Fiorentina Parto con il scusarmi, purtroppo questo video sarà senza l'intro, arriverà forse un pochino in ritardo, spero di no Ma purtroppo in questi giorni sono stato molto molto impegnato, non sono riuscito a registrare prima e mi sono ritrovato un po' all'ultimo Partiamo però con la partita con la Sampdoria, vi do il benvenuto nel nuovo stadio della Sampdoria, nello stadio in Europa Ospiterà la partita contro la Fiorentina Sarà una partita tosta, assolutamente, dobbiamo far bene, dobbiamo portare a casa i tre punti, dobbiamo portare a casa una vittoria Fondamentale sempre per la nostra corsa alla Champions League, la Champions League punteremo assolutamente quest'anno L'Inter ha fatto malissimo per adesso, dodicesima in classifica, forse anche un po' con la colpa nostra perché abbiamo battuto 2-0 nello scorso episodio La partita è che dobbiamo provare a vincere, c'è Gabbiadini, Gabbiadini ci ha fatto parecchio male la scorsa stagione Cerchiamo di non farci punire, di nuovo, sempre da Manolo Gabbiadini Inizia il match con la Sampdoria che imposta il gioco Lukaku Sulla fascia Lukaku, cerca di saltare tutti gli uomini, la palla da mezzo per Sturaro, ci prova Benassi 1-0 Subito così al 36esimo, la Fiorentina passa in vantaggio con gol di Marco Benassi Sempre lui, che già la scorsa stagione ci ha fatto sognare, ha fatto veramente tantissimi gol della scorsa stagione Ha sfiorato la doppia cifra E questo non può puntarci tranquillamente, arriviamo col destro, la palla servita Da Sturaro, mamma mia che giocata Secondo gol in Serie A per lui Al 37esimo Porta in vantaggio la nostra Fiorentina Sampdoria da ripartire sotto di un gol Però attenzione, Simeone, recupera già il pallone, Simeone, Simeone, da solo, Simeone, contro tutta la difesa d'Oriana, Simeone Un calcio d'angolo La Font Raga per Kenny Tett Serve Chiesa, da solo, probabilmente l'ultima azione della partita, anche perché il 93esimo è già scaduto Chiesa, la palla in mezzo Per Veretù Veretù 2-0 La Fiorentina chiude la partita Quando la partita era già finita, praticamente 93esimo Superato E ci pensa Jordan Veretù 2-0 La Fiorentina che Sta facendo bene, non abbiamo fatto un grande inizio di campionato Possiamo davvero puntare Alla qualificazione in Champions League diretta Assolutamente sì Andiamo qui con il destro, da diverse inquadrature Il tiro Jordan Veretù 2-0 Prima gol in Serie A quest'anno per lui, tra l'altro Comunque ragazzi, ho la maglietta della Fiorentina dietro Quindi cercherà sempre di portarci fortuna Ovviamente come dicevo nell'altro episodio, non riesco a metterla sempre Comunque fa freddo E quindi è un pochino tragica la cosa Però quando non riesco la metto Sulla sedia Sulla sedia Comunque ci porta bene 10 tiri Quelli della Sampdoria però Non hanno mai impenserito effettivamente la font Juventus batte la Lazio Quindi teoricamente dovrebbe sempre starci dietro Ma la Lazio si allontana E la Roma vince 3-1 Però anche qua teoricamente la Roma se ne va Cioè non è ancora nella nostra zona Io faccio la formazione E ci vediamo direttamente nella partita contro La Ica Patene Eccoci qui nella partita contro la squadra La Greca Una partita difficile Perché dobbiamo assolutamente trovare i tre punti Per portarci avanti Ovviamente come suggeriscono anche i nostri telecronisti Di spalle Ci dicono anche giustamente che È una partita con cui si può già fare un bilancio Siamo 4 punti Con il Girona 3 Invece la Ica Patene Devesse vincere la Ica Patene Si porterebbe sopra di noi E questo Non va assolutamente bene Anche perché al momento il Girona passerebbe Con gli stessi punti Passerebbe proprio la squadra spagnola Per la differenza reti Inquadrato Butebus Il nostro mai talismano Il nostro pupillo Da 3 carriere Pazzesco Vemmuto sia al Salute Ligo Che al Watford Che quest'anno alla Fiorentina Intanto i giocatori si danno la mano E vi dico che Questo episodio ovviamente sarà Un pochino più breve del solito Però cercherò di farmi perdonare Con quello di sabato Magari mettendo 4 partite E tra l'altro Mi scuso ancora per Per averlo fatto uscire Così diciamo Senza l'intro Senza nulla Però Ci tenevo comunque a portarvi A portarvi il video Vedo che i video stanno andando bene Vedo che comunque Sono apprezzati E quindi ci tenevo A portarlo Mi raccomando Lasciate un mi piace Per il supporto Commentate con Con suggerimenti Sempre per la nostra squadra Anche perché piano piano Ci avviciniamo sempre di più Al calciomercato di gennaio In cui faremo Alcune live Probabilmente una Due Adesso vediamo Vediamo un po' come organizzarci Magari una con la prima metà Oppure la prima metà Andate a gennaio Fare un'episodio normale E poi fare La live Questa è la nostra formazione Con Felix, Pato e Neres Davanti E Sturaro dietro Con la maglietta Numero 10 Succedita da Molti di voi Ho fatto anche un sondaggio E ha vinto La maglietta 10 A Sturaro Il match Ora Può iniziare Mantalossa Dietro per Moran Intercetta il pallone Sturaro Pato Pato da solo Deve cercare un uomo Trova Neres Sulla fascia Neres Cerca di saltare un uomo Ci riesce Neres Super al contrasto Neres Neres La palla dietro Budebus Il tiro a giro Budebus Che gol 1-0 Così subito 7 minuti Fiorentina Già in vantaggio Uff Vedete con l'ansia Fareste partita Una cosa allucinante Comunque Una gara Quasi fondamentale Per la nostra Corsa Nell'Europa League Vediamo qui Salta molto bene L'uomo Neres Epe col mancino Non può fallire Budebus Ennesimo gol Per lui Il portiere Non può farci niente La palla si schianta Sul palo Ma finisce In porta Palo interno E gol 1-0 Fiorentina Kerrer 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 perde il pallone Chloranidis Prova il tiro Areola Ci salva Assolutamente Ci salva Una maniera Allucinante Potevamo prendere gol Allo scadere Sarebbe stato Amarissimo Mantalos Il grossi mezzo Per Chloranidis Kozic Areola Tanto c'era anche fallo Su Areola In questo momento Ma A vitro Fischi Al final Del primo tempo Rimaniamo Sul 1-0 Non male Cambi Non li farei neanche Anche perché siamo Abbastanza Abbastanza posto così Mantalos Livaia Mantalos Clonaridis Clonaridis Ci prova il tiro Areola Para Bacarisse Clonaridis Mantalos Allarga per Bacarisse Livaia Ex Atalantino Passarla in mezzo Attenzione però Sbaglia la difesa La Fiorentina E regala il pallone Alla Icappatene Sulla fascia La squadra Cerca uno spunto Per entrare in ala Hult Doppio contrasto Mantalos Mantalos Da solo 1-1 Questa non ci voleva Facciamo entrare lì Per dare un po' più Di agilità Questa squadra Ma la Icappatene Pareggia Trova Il gol dell'1-1 Da qua errore Difensivo Madornale Che poi non è proprio Errore del portiere Però La difesa Sulla Sulla sinistra Del portiere Ha sbagliato Il passaggio Dunque Si trova Si trova Di nuovo in parità La gara Ristabilita Il pareggio I direi di fare Ancora qualche cambio Però Porterei Patu Sulla sinistra E vorrei Far fare Il debutto Al nostro Michele Marino La scorsa stagione Ha fatto davvero Benissimo Soprattutto L'ultima parte Della stagione Quando l'abbiamo Inserito Dalla primavera Alla prima squadra Voglio fargli fare Il debutto Vediamo come si Comporterà Lì Sulla fascia Lì Fiorentina in vantaggio Con i gol di Michele Marino Dopo un minuto Dal suo ingresso in campo Tra l'altro Neres Non intuisce bene L'esultanza Della squadra Dettagli Dettagli Ci possiamo Tranquillamente Salvolare Vediamo Qualcross in mezzo Bellissimo Di Pato Di lì Scusate Che riesce a saltare l'uomo Prova il cross Trova Marino Che col destro Non fallisce Il tap in vincente 2-1 Prima gol in Europa League Per lui Tra l'altro Ovviamente Il debutto Quest'oggi Ci portiamo in vantaggio Ramsey Il cross in mezzo Per Marino Esce bene il portiere Aleph Aydarevic Gallo La partita però Finisce qua 2-1 Portiamo a casa Altri tre punti Dopo i primi tre punti Con la Sandoni In questo episodio Portiamo tre punti Contro l'Aikap Atene Per il nostro girone Allora Siamo di nuovo Nella nostra posta in arrivo Offerta per il prestito Di Vigori Io proverrei ad accettarla Perché teoricamente Hanno aggiustato Il problema dei prestiti Aggiornando Con l'ultima patch Teoricamente Dovremmo essere Relativamente a posto Formazione Abbastanza titolare Mettiamo giusto Veretù Metterei Milenkovic Quasi quasi Ci penso Mettiamo Milenkovic A posto di Romagna Per il resto Possiamo anche Tranquillamente Lasciarla così Togliare giusto Neresh Dalla penchina Perché è veramente Stanchissimo Magari portiamo Felix Ci portiamo Biraghi Visto comunque Sta giocando Sta giocando Poco in questo periodo Attacco Titolare con Lukaku Simeone E Chiesa E noi possiamo Andare ad affrontare La Lazio Lazio che È partita male Molto 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 male E noi invece Stiamo facendo Abbastanza bene Siamo quarti Al momento Possiamo Portarci Sempre di più in avanti Con le vittorie Speriamo ovviamente Di portare A casa i tre punti Difficoltà ultimate Cinque minuti Mettetevi comodi Per questa gara Della nostra Fiorentina Contro la Lazio Allo Stamio Artemio Franchi Ospitiamo La squadra di Roma Una partita difficile Fondamentalmente Perché comunque La Lazio È una buona squadra Ha iniziato male Il campionato Questo sì Però È una squadra Comunque molto forte Ha giocatori molto forti Che potrebbero anche Interessarci Noi abbiamo alcuni Giocatori ex Lazio Come Come Lukaku Vediamo qui Noi siamo quarti Con una vittoria Ci porteremo primi Se il Napoli Non dovesse vincere Mentre la Lazio È quattordicesima Quindi molto 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 in basso La squadra Di Simone Inzaghi Miglior difesa Abbiamo la nostra Assieme a quella Della Juventus Con sette Solamente gol I gol subiti Che ansia però Ste partite Mi mettono davvero Davvero un'ansia Dobbiamo cercare Assolutamente I tre punti E speriamo che La maglietta Di chiesa Alle mie spalle Porti fortuna E questo Ci scende in campo Il nostro numero 25 Pezzella La raga Per Spinazzola Un po' arretrato Nell'ultimo Nell'ultimo periodo Secondo me Non sta facendo male Dunque devo dire Che sta Sta giocando Abbastanza bene Però va bene Assi Ma palla però Finisce in angolo Molto bene Calcio d'angolo Palla sulla testa Di Bakayoko 1-0 Che colpo di testa Però Una cannonata Ha davvero Un cannone Al posto dei capelli 1-0 Fiorentina E si mette a esultare Il colpio Che ha un chiesa Mamma mia Però Forse uno dei più Bei goal Che Che abbia fatto Dalmeno dal calcio D'angolo Un'incornata Pazzesca E tra l'altro In porta C'è Dragoschi E facciamo Goal anche Al nostro Al nostro Ex portiere 1-0 Benassi Allarga per Chiesa Chiesa sta giocando Molto molto bene Questa partita Chiesa Salta anche Bastos Chiesa Al cross in mezzo Per Lukaku Il gol dell'ex 2-0 Ci portiamo avanti Di due lunghezze Ovviamente Jordan Lukaku Chiede scusa La sua maglietta Numero 77 Sta facendo molto bene Questa stagione Sta facendo davvero Tantissimi Tantissime azioni Tantissime Azioni pericolose Qualche gol Comunque come esterno D'attacco Fa veramente molto bene Qui si inserisce Perfettamente in aria Col destro Colpisce Il pallone Mette in rete Dragoschi Punito Per la seconda volta Contro la sua Ex fiorentina Jovinko Jovinko Salta molto bene L'uomo Prova a saltare anche Pezzella Non ci riesce Lei va Il cross in mezzo Per Milinkovic Savic Il sergente Accorcia le distanze 2-1 Lazio Prova a recuperare Uno svantaggio Che al momento Sul campo Si è visto Largamente Al di là Adesso del risultato Ma Lazio Molto molto Sotto A questa A questa fiorentina Vediamo qua Lei va Cross in mezzo E colpo di testa Di Milinkovic Savic E Milinkovic Che forse non riesce A colpire La Fonte Non ci arriva E il secondo gol Anche per lui In questa serie A team Vertu Manca pochissimo Dai su Manca pochissimo Possiamo trovare la vittoria Luis Alberto Rossi Per Chiesa Però non riesce A saltare la difesa Ci prova Ma in vano Nella partita Finisce qui L'arbitro fischia La fine della gara Triplice fischio finale Ci portiamo a casa Tre punti Tre punti fondamentali Anche perché Se il Napoli Non dovesse ha vinto Noi potremmo Essere primi Al giuramento Dello Salvatore Pato si lamenta Però Pato se ti stai Sempre anche a lamentare Non Ti faccio giocare Comunque Dai Allora Maxi Gonzales Qua in guerra Sembra un mostro Pazzesco Vale già 500.000 16 anni Comunque sembra Veramente un buon giocatore Oscar Johnson Non mi fa impazzire Questo Rundberg Svezia C'è poco C'è giusto Questo Gustafsson Anche lui 15 anni 500.000 Vieni solo Nella nostra Premiovera Assolutamente Sì Abbiamo Un caralleggiamento Dalla Polonia Tutti i giocatori Abbastanza Impronunciabili Ma non ce n'è Qualcuno Che spicca Forse questo Novak Per il resto Direi che possiamo Tranquillamente Scartare tutti Teniamo giusto Novak Sotto Sotto osservazione Non riusciamo a vendere Ranieri Niente da fare Per Gori Ci tocca ancora aspettare E nel prossimo episodio Ormai perché Siamo agli sgocci La partita contro il Milan Ma intanto Siamo primi in classifica A 21 punti A più uno Su Juventus E Milan Proprio squadra Che andremo ad affrontare Nel prossimo episodio A due invece Sul Napoli In Europa League Siamo secondi A sette punti Staccando Quattro lunghezze Dalla IK Atene E sette Dallo Zulte Stiamo mettendo Abbastanza in cassa Buoni risultati Idrica Potrebbe essere questa La formazione con cui Andare a affrontare Poi il Milan Nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Vedremo Milan A IK Atene Bologna E probabilmente Las Verona Poi nulla Ci vieta anche Di fare lo Zulte Magari simulando Una o due partite Adesso vediamo Cerco di organizzarmi Un attimo con i video Dovrei essere un pochino Più tranquillo Questo weekend Ho degli esami da preparare Ma cerco ovviamente Di portare sempre più episodi Sempre più carichi Intanto vi ringrazio Per questo episodio Vi ricordo Vi lascio un mi piace Se vi è piaciuto Di commentare Con la vostra opinione Noi ci vediamo Sempre qui Alla prossima Sul mio canale Un nuovo episodio Nella nostra fiorentina Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi